macarena ed eccoci ed eccoci e macarena ciao buonasera amici della chat come state spero tutto bene dai e spero vi sia piaciuta take on me perché c'era gennaro bullo anche gennaro da pokemon poi c'è giocanotte sanders mardock sette mesi non è addirittura non il live per colpo della quantità di roba devo fare un povero marco d'arctico don daniel sarko ecco guarda lasciamo stare lasciamo stare che cazzo mi è successo con un real quel coso la è bello ma vabbè fanculo sei una merda che cosa eccomi non so e ciò per far uscire l'urina e problemi di prostata ti ho invitato marco e ti ho invitato a il rogetto c'hai capelli c'hai i baffi non volevamo farla spiega perchè gli è non volevamo non lo so non sapevamo cosa giocare non sapevamo cosa giocare non sapevamo che c'è giocato grazie a roti grazie a roti grazie a roti comunque per chi se volete vi risparmio dei problemi per chi utilizza unreal se avete un degli effetti che utilizzano dei material che utilizzano della della tassellazione se duplicate un effetto che utilizza una mesh e cancellate la mesh data vi si fotte tutto il material comunque nessuno usa un real qua presenti se qualcuno lo fa non fatelo io l'ho fatto per sbaglio e mi si è fottuto tutto e devo rifare alcune cose vaffanculo perché come se avessi duplicato le fondamenta e poi hai tolto le fondamenta no è come se stessi programmando le fondamenta e poi arriva uno che non si va nel culo io ho talmente pochina con le consegne che curiosità che la mia scheda video non si sa dove è finita e vabbè da quello io liezer non la trovo più no però io non la chatta aperta dove è finita dove sono questi stronzi che scrivono per arrivare ieri probabilmente se va tutto bene arriverà lunedì non ho premuto play per forza e a me lunedì sai cosa arriva aliezar la testa nuova dei nuovi anelli da barba lo sapevo forse non parla d'altro da una settimana ma non è vero è il nuovo pathfinder ma non è vero però se vuoi ti parlo un po di pathfinder no grazie come accettato ma soprattutto gatto tu quando è che ci fai una comparsata dimmi guarda adesso tiro un dado e vediamo se ti riesci a venti cosa vuol dire scusa che vengo il venti ah guarda eh ma perché parla di organizzare l'uva ah no giusto poi allora devi tirare due venti il primo e il giorno poi tiri il mese ah no per il mese non c'è bisogno del venti passa al 12 no gatto non lo ho è che all'inizio soprattutto no io ho in 8 che parla di pathfinder è molto diversa la cosa all'inizio mentre preparavamo le schede eccetera se ne parlava molto ed essendo lui tagliato fuori no non è vero non è vero non mi dà fastidio questa cosa è che voi dovete sapere che in 8 quando c'è qualcosa che gli piace è un tenerone ne parla per 12-18 ore è vero 12-18 è vero non ho mai detto di no stavo per dire 2 non è vero è 18 quindi se tu gli chiedi no ma quale sarebbe la cosa migliore per il dado di pathfinder e lui inizia a raccontarti la storia della sua vita ma non è vero non ho mai raccontato la storia della mia vita no per la mia build forse sarebbe meglio usare un dado oh madonna fatto di osso di cane tuttora di avorio ma con mai e allora guarda quasi quasi lecco un cane per vedere se esce fuori l'osso mi sembra ottimo quello a fare del Sizer va bene e questo è in hot quando parla qualcosa mi devo concentrare non posso ridere perché c'è il dito poi la comparsata dove paga un tono tanto adesso andiamo a Venezia infatti è che anche Karim deve farla con un po' eh ma infatti devi trovare un modo per ticcarle tutte e due ecco Karim la pensa come me ma non te lo dice perché è educato no non è educato Karim trano perché diciamo Karim è quello più diretto quando devi dire le cose eh ma in hot è dolce non gli si può dire niente mai no solo perché ti tira perché l'hai leccato è semplicemente il tuo più di Karim esatto per quello beh finché è distante vive a Trieste ma chi cazzo sei bello è anche vero sinceramente Gatto tra tutti noi io sono il più vicino a te posso venire a picchiarti è vero e so dove abiti e so dove abiti la terra di Sant'Antonio intanto grazie a Baglio grazie mille Baglio c'è una donazione ai Termos per si staggeggeare la mia prima full team kill sulle ranche dei RYMOTER bello qualcuno che è ancora in grado di giocare grazie a orecchiette e come vuole grazie mille orecchiette tra l'altro oggi è la giornata dei grandi arrivi perchè mi è arrivata la salita nuova 4k perchè poi arrivo le cose, mi sono fatto male ma non è quella la parte importante che cosa mi è arrivato? è arrivata un'altra cosa, aspetta eh, fammi pensare un attimo ho l'SKS comunque, anche io voglio le robe che mi arrivi io so che mi sono fatto male chiedendo comunque, gioco di merda il nuovo pigiama, bravissimo che sto indossando in questo momento non mi hai fatto la foto, quindi si vedrà in live il nuovo pigiama ma quello... identico ma con le braccia più lunghe e l'altro lo regali alla signorina esatto, quindi se tutto va bene stasera facciamo i cugini merda se tutto va bene create elettricità strusciandovi tra di voi c'è la zip che come hai visto funziona da isolante è la messa a terra praticamente c'è una cappa sul tetto è una cacca per terra? davvero? non hai messo la foto su instagram? adesso non è che devo condividere tutto fatemi la sub mi ruba il rame? non lo so dipende a che ora torna a casa non rispondo io per lui ecco come al solito controllate padella qua se volete qua lì si fa le canne non seguite dove è il tetto? c'è dov'è la cappa sul tetto che scotta? si ha iniziato The sims è proprio bello The sims forse dall'altra parte qua c'è la padella comunque però lo puoi fare solo alle 4 di mattina se no nessuno te lo guarda ah qua nell'angolino io non sto trovando la padella non mica l'avevo visto questo bravi 15 ne ho anche uno livello 2 bravi amici prendine a calci uno finchè non arriva da me comunque se avete è il metto polis vest livello 2 il polis vest può servirmi io ho il fucile a pompa e poca vita io ho il SKS e la poca vita ho caduto scendendo e mi sono fatto male c'è una tommy gun qua ma malissimo non male c'è la tommy gun però no non mi fica la tommy gun è buona ma c'ho la pompa c'è la doppietta la doppietta è l'arma della vita ragazzi soprattutto in solo io comunque ti odio perchè quando lo dicevo io tu devi insultarmi porca trolla vengo a prenderlo volentieri io l'ho sempre difesa la doppietta no non è vero eravamo semplicemente non ti dicevo niente c'è un choc che ti dà te lo vuoi te lo prendo si volentieri grazie c'è anche il bullet loop c'è anche oggi addirittura un colpo solo l'ho ucciso oggi abbiamo giocato ma eravamo in live per l'SKS in live eravamo in live eravamo c'è stata la scena tragicomica in entrambe le molte lì abbiamo fatto delle grandi kill con la doppietta ehm zaino livello 3 il problema della doppietta sono i due colpi il fatto è che se non se non sei reattivo grazie maurino è un piccolo mauro è un piccolo mauro ho trovato il choc giustamente una doppietta deve avere due colpi ne avesse tipo anche solo 4 sarebbe più eh non sarebbe più una doppietta sarebbe una paterna bravo torca troca pure un walker un walker non ci vuole guardare la strotto vertical foregrip guarda che cagata che hai detto inizia a ridere cosa vuoi da me? la 2 pietta la 2 pietta mi piacerebbe avere un fucile meglio dell'ump adesso ti regalo la k c'è la k? vuoi l'ump in cambio? no vuoi il fucile a pompa? non c'ho la doppietta ce l'ho io e dove? vieni qua gatto merda son caduto j'arrive my friends ti devo aiutare ma e beh ho l'm4 con 30 colpi voglio la doppietta dicono l'mp è la vita la k è buggato dopo la pace buggato in negativo? gatto son qui gatto gatto mettiamoci in un posto che belli questi alberi volanti allora aspetta che switcho direttamente il ti lascio il fucile no vabbè ti lascio i colpi anche del fucile se mi dai mi dai i colpi per cortesia dammi il bullet ah non ce l'hai più il bullet ce l'ha attaccato l'arma te lo devi staccare aerojet i colpi marco checkpad eh si il checkpad mi serve ce l'ho io e no la polizia di livello 2 dov'era? eh dove c'è il mio segno rosso ce l'hai i gas in questa casa qua? a posto a posto eh non vedo ma penso di si thanks cossa al cossa va beneee lo zaino se non sbaglio aspetta che non mi apre il programmino che c'avevo già qua grazie a team arthur vedo una d'ora e venti che non dice niente sempre presente grazie mille sempre presente marco noi ti mandiamo un cuoricino anche se tu non ci dici niente va bene? esatto credo che abbiano perchè te li meriti no il live non è aggiornato ancora se ti risponde con la foto del suo pene si top donator però eravrebbe 25 euro mi piacerebbe come? no ti piacerebbe? non mi piacerebbe il pene mi piacerebbe l'idea perchè è una cosa che non mi aspetto si sparano io ti ringrazio un sacco per tutte le tue donazioni ti risponde su telegram in anonimo in anonimo? in anonimo? vabbè vedi vedi ma in anonimo poi non sai che è lui e lo sai che è lui perchè te lo dice prima ah sono smart così sì vedi e tu ci dimori perchè pensavi che ti volessi solamente bene invece vorremmo proprio scoparti a me l'UMP piace ma non ci vivresti? ma non ci vivresti? si però io mi devo dare balle che qui arriva la chiusa e morite tutti no è un'ottima arma la chiusa ah dobbiamo tipo spostarci no? no 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 stai lì dove sei e comunque aerojet non esiste cosa? non aerojet niente aerojet hai trovato? max ti salto in testa gatto come? super mario dei miei coglioni cos'è quello? se avete un per 4 però che abbiamo delle case qui potrebbe fare comodo ho trovato un'altra cappa gatto prendi i colpi prendi i colpi prendi i colpi adesso non l'ho capito quella l'ho già lottata io aerojet ma infatti a te ero la cappa a me i colpi no no io li puoi la cappa ce l'ho si si no ma sto soltando un Q volevo fare una cosa cazzo c'ho una fame avete colpi verdi per favore? no vecchio mio perchè lo sapevo per avervi lasciato un redote hai notte eh se ti serve si non so lo metto così male c'è un monografico qua lo tiro su? qualcuno di voi ha un per 4? si ho in notte il checkpad grazie qualcuno di voi ha un per 4? no si ma me lo tengo e ti do un per 2 ho il fucile da cecchino ma inculati ho un fucile da cecchino ho un fucile da cecchino to anche il per 2 cosa vuoi tu c'è il cecchino io c'ho la cappa cosa vuoi io c'ho cosa vuoi dai ma non te lo do ma è mio ma che cazzo vuoi ti sparo e me lo prendo io vinco le partite ai nostri ti sparo e me lo prendo dai andiamo io vinco le partite ho l'SKS gatto e mi tengo il per 2 porca puttana gatto sta facendo esprit grazie prendi gatto sta davvero facendo esprit grazie ti voglio bene il mio cecchino è la cappa adesso vedrai che moriamo tutti perchè tu non sei cappa dammi l'SKS che ti do la cappa ma sto cazzo ce l'ho già la cappa gatto vieni qua vieni qua ma muoviti ma muoviti gatto ti ho dato niente ormai son distante non ce vuoi volevo darti il painkiller niente lo prendo io e no 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 questi ci muoiono nel gas ma chi ora è uscito ragazzi sta bene si sta bene no no è stato messo sotto sento a special va bene un cagato mi sembra mi è sembrato di sentire un auto che cazzo sei mi è sembrato di sentire un gatto sono io c'è gente a sud-est 150 ti aiuterei a sparare ma c'ho il 2x e vivo nella speranza del 2x c'ho l'olografico che ce l'ho visti perchè si muovevano dei kitten l'abbiamo già fatto l'abbiamo fatto tre giorni fa cosa scusate l'altro un altro live di kart against your humanity l'abbiamo fatto tre giorni fa l'abbiamo fatto due giorni fa no tre giorni fa ma tra l'altro sono due giorni fa ma anche stra bene quello li recuperatevele non ho il più vanno la grande zio chi al per 4 provi a vedere la sulla collina ma sulla collina davanti a noi si a 150 davanti a noi 150 tra l'altro diciamo io e gianluca che siamo unite perchè c'è shadow of mordor vero e io ho iniziato l'ombra di merdor chi è aerojet? cosa ha detto dietro? chi è aerojet? chi è aerojet? chi è aerojet? ciao gianluca è un nostro caro amico che fa anche il comite grazie sardo si grazie sardo fa la persona in piedi grazie grazie ma l'ha lasciato qualcosa? chi è che vuole un medikit? ne ho 4 io che ho solo bende eeeh vieni qua poi ti do un un pinkiller ciasera c'è un cecchino lo switcho? si c'è cecchino cos'è l'altro? ah vieni 4 lo switcho dai però dammi il eeeh prendo un paio dai forteretta è la meta di battlefront la domani domenica non credo proprio credo che nessuno calabit vieni il pinkiller grazie è free è free è free è free ma io ho anche la scaricata io non la scaricata quindi a priori non posso farla vabbè scaricare la puoi scaricare uguale fino a domenica è fino a domenica quindi mi è un po' inutile eh no io la voglio provare di cosa? battlefront 2 ah ah ma c'ho un moscerino giusto un po' poi c'è un moscerino eh sullo schermo io ho detto cazzo c'è uno ah ah gatto quanti per due hai? ce n'hai uno per me cagati addosso io cosa fanno io ah son 15 giga? beh non è neanche tanto dai non c'ho un per due in più però mi devi dare un olografico o qualcosa se no eh ti red dot c'ho qua aspetta che cazzo però è molto meglio red dot dell'olografico gatto dipende dall'arma ma io mi trovo meglio con l'olografico allora se devo usare l'OMP preferisco l'olografico se devo usare vabbè gatto non preoccuparti vado no no ce l'ho ma te lo do ne ho due ne ho due te lo do vabbè non è tanto comunque però devi venire qui si sto arrivando che stavo facendo i magheggi con l'M4 a proposito io sto cazzeggiando ma siamo davvero po' cinchi ragazzi eh ma se si stringe qua e potremmo andare oh no eh ragazzi troviamo un'auto e andiamo direttamente dall'altra parte se no diventa improponibile io tanto luto no gatto guarda la safe eh ma che hanno tre minuti no ma non è quello il problema il problema è che poi si camperano sui sui ponti e sto cazzo che passiamo eh non guarderò tutto cazzo cioè ce l'hai gli anelli da cazzo? no gli anelli da cazzo no sono quelli da balle che palle però che noia che sei Jacopo però sono tutte chiuse queste non guardare che ti devo dire scusate basta pubg decidiamo noi non guardare mi è piaciuto che mi è piaciuto che abbiamo iniziato la live dicendo abbiamo avuto un po' di problemi sti giorni coi giochi perchè ne abbiamo pochi stasettimana basta pubg la reazione è da grande ma non è che ti ha detto chissà che cosa non ho detto basta pubg a presidere non scriverei basta pubg ma non è che ti ha detto c'è sempre la famosissima x in alto a destra su pc o cellulare chiudi l'applicazione mac è a sinistra vieni qua shimunito e mac fa schifo vieni qui shimunito ecco te non parli con me non è che sono come messicani ragazzi cerchiamo un'auto in questa casa non c'è ah grazie curiosità ma pubg non gira nemmeno sulla integrata ma mai nella vita non lo so ma è che adesso ho giocato a world warship che vabbè figa è un gioco di merda al minimo e mi va a 20 frame ragazzi l'integrate non vanno bene per giocare no poi pubg proprio uno dei peggiori non ci provo neanche qua c'è una polisvesti due polisvesti livello 2 ragazzi voi ce l'avete gatto e marco livello 2 non ce l'ho sto rimando sul tetto che scuola voglio ringraziare io team arthur che mi ha donato ha donato marco dicendo e beh l'ho detto poi il pene poi il pene te lo faccio vedere cosa ti ha detto niente foto del pene che nel team c'è una signora ma ti stimiamo per l'idea un soldato tottino qua marco ti ringrazio perché stai guardando qui immagino mi ha detto al contrario come messicani lo giustamente volete sapere ma nel wrestling i messicani c'è la luce libere fanno tutto al contrario rispetto al resto del mondo poi c'è un mini 14 davanti ti dai le posizioni c'è invece che fare 1 2 3 fanno 3 1 se determinate cose nel wrestling si fa solo con la destra per dirti loro lo fanno e lo vengo a prendere allora ah ok eh ce n'erano ragazzi auto cerchiamo un'auto avete mai giocato volante ci sono dei video sul canale ne sono 3 o 4 quindi no però comunque sto dicendo che mi era piaciuta la reazione del ragazzo che ha detto basta pubblica perché non ha detto mi sono stufato di pubblica ah no se ne dobbiamo andare adesso chiudiamo tutto basta mi è piaciuto come poi iniziano anche ad essere aperte le case questa era aperta ma non era lottata quindi non so come reagire Sanluca non c'è la dacia Marco con gatto con gioia ma contenuta ma poi per carità capisco che è troppo pubblico non va bene ma siamo in prima dirlo abbiamo veramente iniziato proprio la live dicendo scusateci ma va cos'è la settimana ma li difendo io dicendo che se non c'era capped io stasettimana avevo le vene tagliate eh purtroppo i giochi sono e quindi se la e io non ho niente non ho e infatti poi c'è un morto vediamo abbiamo altri due giochi da prendere ma probabilmente insieme ci vogliono costare 60 euro stiamo variando un attimo con fortnite ma è lo stesso gioco ma io ce l'avessi un gioco da 60 euro da comprare no non ce ne sono in sto periodo proprio zero eppure c'è tanta roba da sopra qualche roba che non va bene per l'anno ma aspettiamo tutti assieme il 27 ottobre che faccio la 55 ore di Mario Odyssey che lo finisco tutto basta di fila che esce e lo gioco finchè non muoio ah vedi l'ho comprato un mese fa da Amazon però ragazzi poi io direi cerchiamo una barca direi io si sta guarda per me chi è? sono finite le barca erneali 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 grazie mille grazie grazie ciao assassina ma no warm scene live rispondo io per voi guarda che maledicato ma perchè lo stanno già facendo in video avrebbe poco quante volte l'abbiamo fatto solo per la 24 ore per la 12 ore ai tempi anche per la 24 ore guarda ho un'idea la prossima lei portiamo fifa 15 io ho fifa 18 e no fifa 18 no perchè tocca comprarlo sennò ci facciamo la cosa lì l'access origin e facciamo fifa 15 ok io gli altri che vedo la lì infatti questo mi sembra uno passare dentro la casa quale è il dilettante aspetta eh quella più vicino a noi quella color mattone chiaro grazie nabbo natale 90 ci sparano boni ma non è noi bella si 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 la mi ha tolto tutta la dita colpito dalla casa è noccato uno io non ci credo nabbo natale però quando si è andato alla gameswin scudami uno è andato uno l'ho noccato si è gatto occhio dietro la casa ah no stavo cambiando arma non ci sono riuscito no cazzo ah che sfiga cazzo che male guarda dov'è che maledizione la rotella è rovescia su sto gioco io non riesco ogni volta eh io me la sono cambiata si può fare eh? eh si non lo so come eh cambiando io il binding dei comandi dimmi i tuoi segreti dopo perché ho guardato non c'era ma come è possibile che... ma inoltre mi hanno detto una cosa bellissima per te no quale di Nicholas Cage credo che lo sappia già ah lo sai mi sparano si ha una mira incredibile ha una mira incredibile eh non lo so quello della play uscirà tra un anno non volete andare a ucciderli no io voglio le robe di gatto eh madonna dici? eh ma si sono riguardo davvero? davvero? ok si si davvero Marco occhio dietro la casa c'era gente ho tre granati ok uno l'ho tirato a terra eh hai il space engineer grazie ha detto che ci ha scoperto grazie a quelli più servo grazie a quelli più servo ma non si è fatto niente uno è andato tirami su ai notti sono morti? grazie a afferrare sono morti? grazie a afferrare si vieni vieni è stata una bella azione Marco però l'ho colpito hai visto che è partito via? è partito via in una maniera terrificante però è partito via si che figa sta cosa ha un per due questo era grazie alle tue granate vediamo se c'ha un medico c'ha il perro hanno un carro qualcuno lo venga a prendere eh Marco prendi tu il mirino io volevo un mirino decente però c'è un per due dall'altra parte gatto io ho un per due io ho un per due giallo aspetta qualcuno ha un medico cioè mi curo poi non ho più io per quello qua qua c'è un quattro io ne avevo ma lootatemi scusate non ne avevi? te l'ha sul lato mi sa non ce l'avevi? ah si bene si te l'ho dato te lo metto ce l'hai? ok che palle che stavo facendo una bella azione sono morto eh peccato gatto dobbiamo andarcene anche questo c'ha il car però col per due porca pittana che merda mi prendo il frag mi prendo il torpi ti butto un per due qua minchia come fai da avere l'eye sempre e ragazzi prendete prendete la padella di gatto ce l'ho la padella bastardo aerojet? ce l'ho la padella ok allora andiamocene tipo instant ragazzi eh si dieci secondi e parte il gas ce lo becchiamo in faccia ragazzi correte macchina alla vostra sinistra eh? si non lo vedo no è oltre a tu non lo vedo grazie però che palle solo il per due grazie mille in caso se muoio ho il per quattro va bene prendetelo allora aspetta che ti sparo ah hai ragiatto è una bella idea Gianluca io ho il per otto culo rotto eh c'hai il cecchino Marco? si buona hai il il mini e c'era il carro? no ma no Marco ti do il carro per favore no mi piace di più il mini no mi piace di più il mini faccio molti più colpi e sono più preciso col carne faccio uno poi ricarico ok ragazzi dobbiamo andare dall'altra parte della cosa eh si ma che cosa? nuotiamo? eh per forza eh dobbiamo dubito ci sia una barca a questo punto eh magari mai dire mai no non ci sono mai qua le barche no qua non ci sono qua c'è la scogliera c'è un buggy rotto lì si c'è un buggy tutto rivolto ma difficile scendere da qua mi sa infatti che guarda in otto che così vedo quello che vedono i nostri telespettatori eh facciamolo chi si è fatto male Marco? poco pochissimo io niente mi stanno sparando dietro mi sa eh metto un punto giusto per mmm a posto arrivare dall'altra parte dovissimo ma anche io Dark Mark però a quando esce scusate Spider-Man che non ero non si sa non l'hanno mai detto la notte mai detto tu che l'hai diciotto c'è nero il cuore scusate in chat ma andando sull'acqua si va più veloce fermo perché scusate in chat per il rumore si fai contro l'M brutto stronzo contro l'M contro l'M vai giù ma cosa ma cosa mi dici mai saputo voi vi trovate con Fortnite in BR? da quello che dicono loro che l'hanno provato è figo molto terreno un po' di problemi ad abituarsi al sistema di eh perché poi si è abituato con questo perché fa cagare no non è più arcade è molto più arcade ma ragazzi stiamo facendo una un giro della madonna per andare dall'altra parte a nuoto ma meglio a nuoto che a farsi ammazzare sul ponte eh ma tanto inoltre vicino al ponte ci sono le case quindi ci sarà gente esatto se andiamo dritti tanto ci arriviamoci un minuto eh no ok eh no non hai detto eh perché ci si mette una vita siamo a metà a metà strada no andiamo qua guarda dove c'è questo puntino si è lamentato delle hitbox oggi in live ma ragazzi mi tocco lo è nuotato si guarda tutto il culo tranquillamente no ma poi dopo l'ho sentito prima abbiamo parlato di merda anche dei cecchini che sono inutili praticamente io oggi ho fatto delle kill invece col cecchino però effettivamente non è cioè alla palombella spari un colpo nerf con la palombella spari una palla da tennis ma magari quella fa più male se il colpo ci mette sei ore ad arrivare ma che c'è un airdrop lì a sinistra non chiedertelo credo sia vuoto comunque nell'acqua eh non è vero sì ma non ci arriviamo comunque no ma infatti è diventato swim simulator eh sì guarda che c'è l'herba anche sott'acqua c'è una macchina lì davanti a noi eh grazie a just lol grazie a just lol dove eh? sette mesi aspetta che non vedo se è vera o finta dove? proprio dritta davanti a te a sud 365 e sud 300... ah non lo so sembra un catorcio eh boh però mi sembra in mezzo al nulla per essere un catorcio facciamo attenzioni ne ho un catorcio che palle aspetito di merda perché? eh perché eh io vedo la croce da te e quando miri vedo la croce che si sposta e rimane precisa al centro il mirino quattro per che dondola e mi viene a vomitare eh mi dispiace ok occhio alle case che potrebbero essere eh ho guardato adesso non ho visto nessuno però non è detto eh voglio prima mettermi in safe andiamo la dove ci sono gli alberi a sinistra si ok tanto ora ci dobbiamo spostare però lo sai eh c'è uno dove? tra est e 105 stanno andando verso gli alberi anche loro ok c'è anche una data se volete ah li ho visti ah si è chiuso qua eh 2 per 0 uguale 0 che merda di posto non ho tappagato Piero grazie a find away che dice ciò termosegatto sarebbe bello vedervi tutti insieme e in una partita by daylight siete grandi sempre solo forzaggiarvi ho sentito solo by daylight grazie ma dead by daylight l'ho ucciso l'ho ucciso subito buona volete vedere cosa aveva? che dispiacere occhio però occhio però c'è gente c'è uno che sta strusciando buggato verso provo ad andare piano piano tanto c'è la collina l'arbitro ahaha sento sparare dall'altra parte c'è me dall'altra parte sono quelli che abbiamo visto probabilmente occhio Marco eh aveva un per 4 se lo volete si 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 switcho la emetto switcho la polisvest sono le bevande c'è un medico Mynot davanti a te a sinistra sinistra più sinistra più sinistra eccolo lì grazie ho colpito ok l'ho tirato giù c'è altra gente eh quindi occhio eccolo la l'ho ucciso uno anche se non ha dato la kill a me quindi state attenti eh merda non ha dato la kill a me dove Aerojet dimmi dove eh dietro l'albero gradi per favore 105 est 105 eccolo era quello? si l'ho colpito una volta no quello è un morto però no fa guffo di sangue però penso sia un morto c'è uno che ha corso di lì a 75 est lì in mezzo siamo sparati in mezzo a tutti comunque praticamente ehm quando uno viene tirato a terra è noccato vuol dire che altri suoi compagni di squadra sono in vita sono ancora in vita e lo possono tirare su se muori subito invece non si stanno sparando tra di loro ti preoccupi di meno no no comunque il mini è favoloso non andiamo troppo dentro la cotta che poi ci arrivano anche da dietro se no no sono da qui c'è uno la dietro giallo c'era uno la dietro no sulla collena dove? si qua ci sono io si sta sparando tra di loro si sta sparando tra di loro lascia gli sparare stanno sparando a me stanno sparando a me si hanno sparato a me e mi hanno preso anche che cazzo hai che t'ha visto allora fortuna che ho 10 bevande eccolo dov'è? è dietro quell'albero di fianco a me a te io di fianco a te ok mi ha dato una kill ragazzi buono ho visto qualcuno correre verso il fondo della safe Ok, devono venire qua Chi sarà mai? Andiamo a vederne E mi ha calcolato 6-6-4 Grazie Ale Eccolo lì uno Ragazzi, voi controllate da quella parte Io controllo dalla colline Eh, mi devo curare, rispettate Un attimino che mi furo veloce E noto che da lì ero uno, eh Al cento per cento da lì in alto Eh, lo so Ho finito le bende e mi infasticco tutto Marco, in caso corri qua Che posso darti cure No, ce l'ho, ce l'ho, tranquillo Ce ne l'ho uno dietro Là ce ne è uno Allora In cima alla collina C'è sicuramente qualcuno Ah, quello di sicuro Perché sento Eccolo Eccolo là Collina Sono tutti sulla collina, eh Vedo le teste spuntare Eh no, tu vai dietro l'albero Qui sei scoperto comunque Ah, in verità sono coperto dalle fronde Sì, però se uno da un'altra angolazione ti vede ti incula Ma le altre angolazioni che mi vedono sono Marco e Aerojet Perché di là non c'è più nessuno Quindi sì Eccolo lì Nella resta non c'è più nessuno, siete sicuri? L'hai visto giallo? Sì è A destra Non l'hai visto? Là No, 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 era sopra la collina ma più a destra Vai un po' più avanti Eccolo lì Abbiamo preso No, i noti, curati Cus, a chi sarà mai Andiamo a vedere Grazie, Lemmet Grazie mille, Lemmet Grazie, caro Ragazzi Sta arrivando qualcuno verso di me Datemi un attimo un occhio Ok, dovrebbe scavallare la collina per arrivare Io là, quello Non lo vedo, i noti Eccolo lì, i noti L'ho visto, l'ho visto Io non lo vedo Sono in due Qua da me, ragazzi Sta arrivando gente qua, eh Sì? Merda Mamma mia, che buona Merda Non vanno giù, eh? No Ok, uno è andato Alto è sdraiato lì di fianco Se tiri fuori il ca... E l'hai si capace gli spani di Akul A sinistra Hai noto anche a sinistra Merda Ok, adesso sto sbattando il liquido Ok, uccisi? Buonissima A limone Sono qua agli altri Dove? Sì, li ho visti Dove? C'è un albero lì Davanti dove? Proprio davanti a me Sud-est 150 Sud-est? Non li vedo, però È dietro un albero Gatto, tu li vedi? No In fondo alla safe Ah sì, davanti a te Merda Minchia che dolores Minchia che dolore, davvero Uno l'ho colpito, ragazzi Non lo vedo io E te? Sono dietro un alberello Uno sdraiato Uno inginocchiato Aia Mamma mia Devo curare Ah, l'ho visto uno Giallo dietro di te Di fianco Ma che sta correndo Punta quello in basso Dai che ti manca Poi più di esso Sì Sì Bravi Madonna mia Mamma mia Mamma mia Bene ragazzi Mamma mia Tutto merito mio Ma Che manca Dai dai L'ultimo te l'ha data Te l'aveva fatta E tra l'altro Giallo Visto a te Sì Sì, c'erano questi due Qua Eh mamma mia Tra l'altro l'ho preso Perfettamente in testa Aveva l'elmetto livello 3 E si vede che non l'ho ucciso Infatti Ottimo Madol Che belle ste partite Oh, bene dai Abbiamo giocato bene Però è bello che si vincono Eh sì No, ma è stata proprio bella Come l'abbiamo giocata Tutta tattica No, siamo stati bravi Ah, non posso Ok Mi è dispiaciuto essere morto da stronzo No, aspetta Prima di ripartire Dimmi come si fa Quella fare lì Ah, eee Contrazioni Controlli Eee Dov'era, dov'era 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 Eccola Ah, next weapon Oh Cambi Oh, grazie Non c'era Non c'era questo una volta Non c'era Sono sicuro No, forse l'hanno L'hanno messo Penso Dopo la patch Quando la gente si lamentava Esatto Dopo la patch C'è una partita live di pubblica Che vedo vincita Sì, sì No, gatto Se non mi davi il per 4 Io col cazzo che li colpivo Vedi? Vedi? Se non ti dicevo dove sparare In realtà strada di culo anche a me Che ho trovato il per 4 col morto Sinistra 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 E vista destra Ah, grazie Partiamo Beh, è un ok Stavo aspettando Io ero in play Io ero in play Eri in play Eri in play Eri in play Mi ha fatto anche una decina di kill Quindi ci sta Sì, ma è buon appetito Cosa Airojet Che abbiamo fatto anche una decina di kill Quindi ci sta Io ho fatto 5 kill Io ho 2 2 Mi ha feriti un bel po' Perché gli ultimi 2 Che ho avuto già Gianluca gli stavo sparando Vedi? Te l'ho detto 10 Fatta Domani Triggy Tower, no? Domani è sabato Perché? La prima è vergine Perché adesso battiamo Ah, no Adesso Ah, no Diceva oggi Siamo ultimi Perché adesso è Oggi pupughe Domani Triggy Tower Nel senso Il futuro Non ci sono più le prime di una volta Vabbè No, niente Visto che la prima è vergine Adesso arriviamo solo ultimi E basta Ma cadiamo col paracadute Sì, sì Avremo il paracadute Si stacca Che è quello che mi è successo All'inizio partita Comunque sono sceso Mi sono fatto un muro Tra l'altro Però vedi Non abbiamo visto il VSS E abbiamo vinto Coincidenze? Io non credo Io non credo proprio Io non credo Dalla fine Quando tutti hanno il cecchino Siamo a Venezia di nuovo All'altro la doppietta Non l'ho proprio usata Però l'ho avuta Con me fino all'ultimo secondario Dove scendiamo? La scuola Andiamo a Gattaca Andiamo a Gattaca Mi muto ma ci sono Andiamo a Gattaca A Gattaca Per chi conosce il film 3, 2, 1 Via Un che a voi Che conoscete film belli No io ho avuto A parte che A due di loro A due che poi ho ucciso Gli ho scaricato Un intero caricatore Di AK E solo uno E' andato a terra Però va bene Ultimamente Stiamo andando bene Cioè Facciamo sempre Che è uscito Dalla Dacia Io tipo gli ho fatto La sagoma Ah si? Completamente Comunque facciamo Sempre un secondo Terzo posto Ma oggi vinta L'avamo vinta Senza facendo una vinta L'altra Quella E andiamo Giriamo qua a sinistra Sì su forte Che c'è comunque Un bel po' di Spogliere Perché non l'ho Due Due Non mi viene la parola Oh Cavallo Marco Pronto Cavallo Pronto? Sì Due composti Allò? 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 Ah no Sentevo un silenzio incredibile Che concracciare Oh Nananani Tridi Tridi Neni Sì 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 Guardate Quattro per Subito Bella Ak Subito Di paparazzo Randal Mi ha fatto Stamagginella Fortnite E niente E niente in staccato Non c'è niente Dobbiamo non prendere quello Oh male di qui Oh male di qui Oh male di qui Oh male di qui Oh male di Lo metto sul dio Adorgo ha detto È servito il tutorial di gatto È stato quello a farvi vincere Sì sì Ho cominto anch'io di questa cosa Sono le scarpe nuove Andate tutti a vedere il tutorial Ho la K Ho il microuzzi Player non ho battleground Non è che svappa solo moro adesso Qua c'è un red hot Ma non riesco a prenderlo Perché non ho abbastanza Io ho il microuzzi E mettilo sulla K Direttamente No ce l'avevo già Ah in più Dici Ho un per otto Che non posso mettere sul microuzzi Un per cosa? Un per otto Perfuso Otto per otto Non mi com'è Per due Vedi Prima manca un mirino Adesso tutti mirini Ma Roberto Calvos Cosa mia Roberto Calvos ha scritto Crescere con un'amica rumena E sapere a memoria tutta Ad Agostè e Dintei E sono quelle le cose belle Della vita che ti segnano Proprio Dov'è che andiamo? Vado in quella casa lì in fondo Mi serve uno zaino Marco venivo con te Ho trovato uno sul mio cammino E basta E in caso poi andiamo Sai che potevamo andare ragazzi? No che va belli Vabbè No vabbè In caso poi andiamo qua Che anche qua c'è Sarebbe carino trovare anche un mezzo di locomozione E io ci sto andando Lì Dove hai messo il punto Boh vengo Vengo anch'io Rosetta dai Tanto la di Marco Sì è una casa sola Esatto Con dentro Niente Eh? Servirebbe uno zaino Io ce l'ho Andare a scuola Io ce l'ho Vado a scuola sono bravo Poi quello di Axelman Un mini 14 di nuovo E c'ho il perotto Oh me me la godo Io c'ho il per due Che palle Comunque sapete che preferisco il per quattro al perotto io? Anch'io Vabbè È ingestibile da vedere Tranne col mini 14 va benissimo anche il perotto Perché è stabilissimo E per dirti Quelli che hanno sparato a me che erano sulla collina Se avevano il perotto Probabilmente mi prendevano in testa Ma te di quelle volte Eh non è detto Eh Che c'è gatto E che c'è I miei si sono ordinati da mangiare Doveva arrivare alle otto e mezza E invece E non è arrivato niente Il problema è che sono a casa da solo E telefono mio papà Tre volte non risponde Telefono mia mamma Ed è via E non è arrivata E telefono mia sorella Che non mi risponde nemmeno lei E adesso mi ha richiamato mia sorella E ha detto che Era con mio papà qua sotto Ed è arrivato da mangiare Ho capito Però che cazzo Avvisatemi Mi sarò la grazia Per voi I Kraiken I Kraiken Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille E Gianni Grazie mille Gianni Giraya Poi fammi sapere Com'è allora Basta con sto Dopo che ho detto Che proverà L'ossere del musicante Kraiken Aggiornare la patina Perché se non riesco Le mostre Cerenina per lo spam Esatto Hai noto Guarda che questo qui È il cambio della mia vita È Cosa? Il poter mirare Dove mi pare Vero? Cioè no Il mirare scusami Il prendere le cose che vuoi Porca vacca Che bello Mi cambia le partite Vinco le Battle Royale Adesso eh Guarda che le vincevo anche prima Solo adesso le vince Sono di più È che adesso Oditanto sono abituato storto E quindi sbaglio Ma cos'è che hai cambiato Gatto? Un altro per due La rotellina La rotellina Che adesso Quando va su Va su E quando va giù Va giù Ma io non ci passo mai caso Perché tanto Prima facciamo la viceversa Eh no Io preferisco la rotellina Sì prima Di base fa il contrario Che pale Che stupido Non so perché Ma io ho abbastanza Adesso mi sono abituato storto Ma di come siete messi Che ne ho tre Zero E allora tieni ne uno Anch'io ne ho zero So Quindi a rogette ne hai uno No ne hai due No ne hai Tre Sto te ne ho uno Marco E adesso basta L'altro me lo tengo io Gatto si è arrivato tardi Minculo dai Minculo Dai andiamo alla safe Va là Ma io c'ho il ciocchio Ho un complicato sistema Di leve specchie Eh Dove è la safe? Merda Ma fin là Ne è partito il gas Ah è vero Eh merda Quelle case sono chiuse Davanti a noi Eh sì Marco Il problema è Arrivare alla safe Vediamo che ci sia una Macchina dentro Eh sì Bombardano anche sulla crappa Ma sì Vi serve un per due O un perotto Quindi se vuoi Darmi il per due Sì Preferisco il per due Non lo puoi montare sul pompa Anche perché l'M16 Col perotto Sai C'è la Tommy gun Se vuoi Prenditela Mi tengo solo la cappa Per ora Esplodiamo Esplodiamo Ma che esplodiamo Parla il gufo Esplodiamo Il cazzo dov'è? Tornando alla safe Vado anch'io Scusami se non vengo da te Però voglio salvarmi il culo Poi dopo ci vediamo Eeeh Anzi vedi se a pocinchi Trovi un'auto Guarda che esplode di nuovo Se a pocinchi non muoio Passiamo da questo Poi dopo vediamo Eh intanto dai Mi sembrava una buona idea Questo cos'è? Ma è la crossbow Comunque Sparano pocinchi Ciao assassina Buona serata Ciao 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 Mi banchi Ma è morto? No No Per fortuna no Per adesso No 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 Ragazzi mi sto provando dentro una sparatoria ve lo dico Probabilmente morirò A me è sbagliato Cosa accanto? Ho noccato uno Già che c'ero Tre volte Mi sono buttato in mezzo alla mischia Gatto? Davvero? Eh sì È vero E niente è mortissimo male Eh sì È un noccato uno E poi dopo Visto che la doppietà è ottima Però se sbagli il primo colpo Sei morto Ho sbagliato il secondo colpo Sei morto Perché ho noccato uno E il suo amico Invece l'ho mancato E quindi arrivederci Un chiodo De ferro vecchio Della meccanica Della meccanica Della meccanica A questo punto io vi lascio divertire Vado a pisciare Ma c'è una X adesso Falla tutta Perché c'è una X? Perché mi è disconnesso Cosa incredibile Boh vogliamo andare a fottercene di pocinki E correre Perché altrimenti siamo tutti morti È ottimo Sul punto così ce l'ho Mamma mia se stanno sparando Mi sento Saura che mi sparino da dietro Uno qualunque Grazie mille Grazie uno qualunque Grazie Perché non mi ha fatto vedere Il nome in chat a me Mi ha scritto Cioè Si è appena abbonato a Twitch Prime Va bene Grazie Senza un nome Grazie Effettivamente è un dito qualunque Infatti Non bene qualsiasi No Qualunque non qualsiasi Vi piace Eh Dai facciamo Ma ancora il bombardamento Ma basta Eh niente Aerojet Il fatto è che il gioco ha deciso Che noi dobbiamo morire così E quindi Ci sta continuando a provare Insieme La nuvola di fantozzi Esatto Davvero Che poi già siamo fuori dalla safe In più ci devi fare anche sta cosa Davvero Perché forse riusciamo a uscire dal bombardamento Prima che parta Non lo so Voi si Io Forse Io si penso Tu ci provi Dai Facciamo così Dai salto E lo prendo dritto in testa No Erojet Erojet Ma che ce l'ho fatto anch'io Veli veri bocchi No No Erojet Intorni Hopkins Oh ne ho fatto adesso Intorni Hopkins baby Torni Hopkins Le case Io non ho neanche una polis vest eh, aerojet tu non ti sai vestire però aerojet serve un fashion blogger no il fatto è che dobbiamo almeno entrare nella safe siamo morti siamo morti no no perchè non è che fa così tanto danno all'inizio e basta però basta davvero ripeto già abbiamo la safe in più se mi deve fare anche sta cosa in più c'ho paura che qualcuno mi colpisca da dietro ecco tipo il gas aia brucia ora restare attenti al dietro effettivamente brucicchia c'è una jeep dove? la prendo ok prendila vediamo se c'è un arm magari qua dentro no se lo dck vediamo no però c'è uno zaino se volete che livello? uno ma usciamo? aspettiamo qua la gentaglia che arriva no andiamo 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 a cercare qualche loot vai vai no no marco io andrei tipo qua a cercare loot sinceramente buggy buggy? dove? è lì accanto a te hai tolto il rosso? eh? hai tolto il rosso? ah si se vuoi te lo rimetto eh no si perché almeno mi regolo senza aprire la mappa continuamente occhio all'albero occhio al sasso no marco che sai guidare capo come diezza guarda no eh? 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 ma marco se tu passi molto vicino a un albero io sono così mi prendo danno? non credo dai abbiamo provato abbiamo provato e cosa gli aveva? gatto è morto ucciso io mi ricordo un danno mi fa strano mi ricordo dei danni presi in questa maniera ma va siamo adagio qui perchè devi passare così marco con uno stronzo? niente sono morto quanto dann hai preso scusa Luca? eh ah perchè eri fuori eh? no 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 allora non so marco ma se vuoi ti do dei rossi un po' migliori cioè dei punti un po' migliori piuttosto che stai vediamo un po' magari c'è il car qualcosa ma tanta bella jeep sfruttiamo no aspetta aspetta lì c'era un fucile marco marco se eravamo più in su eravamo tutti morti lo sai vero? non stavo accelerando non stavo accelerando vogliamo luttare qua? dai sento sparare proviamo dai anche se ho paura che sia già ma ci ciulano la macchina qui che altro no vabbè ciulare la macchina no però ho paura che sia già lutato sono proprio incendio beh come cazzo si mi serve una polisverta ah da qua si può entrare tiki 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 ciao janji ciao janji sono una tomigan senza polpio quindi mi sa che è già lutato si qua c'è un mirino in mezzo alle balle quindi si dai andiamo via andiamocene si fatto zikiti zikiti vediamo se qua no zikiti no niente dai andiamocene sparano da qua dietro parecchiano si ma un elmetto ma dai trovo una polisverta io eccola qua dai livello 1 meglio di niente comunque si direzione 60 devo andare a piedi? ma si ha più senso va bene aspetta che mi mi bevo una una redbull qua dietro proprio sparano? si si qua sopra? si si devo andare piano facciamogli l'agguattone io non ho la secondaria non sparare subito aerogetto ok cerchiamo di no sono alle case dici? si è sembrava molto vicino no no è la dietro la roccia aerogetto dietro la roccia a nord est marco perché? potevamo sparare tutti insieme ma sto scappando con la macchina non è quello con la macchina è dietro la roccia a nord est merda eh niente ero lontano uno sopra eh è sopra di me proprio si aspetta che mi curo occhio che sta arrivando ah lo vedo e da qua non mi dovrebbe dai eh mi sa che ho colpito male marco ti riesci non ho scato riesci a tirarmi su marco? aspetta marco sta salendo davanti eh occhio aeroget eh si niente ah che palla eh la se non sparavi era meglio eh ma vabbè quello lì alla macchina era proprio nel mio mirino in testa eh ma non c'entra eh ma non era quello a cui stavamo puntando marco è quello amici scusate la mia assenza improvvisa ma sono arrivate le pizze quindi vi vado a mangiare va bene buon appetito e quindi buon appetito buona serata e in 53 ci buttiamo po' cinchi esatto quello che volevo dire ma mi hai tolto le parole di bocca esatto ah ma tra l'altro gatto è ancora in team quindi livvate il team viviamo vai 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 anch'io voglio una pizza hai lasciato l'automatch ma no aspetta si tolta vai non è andato play vai non va a play perchè non va a play? non lo so ho rifersciato adesso si mi smè c'è still in progress com'è? eh entering cosa entering? è entrando? è entrata probabilmente stata nella lobby vediamo vediamo aspetta io per ora sono nella lobby da solo no sei con me no ok marco l'ho visto va dai qua ciao marco eh io non ci sono tu non ci sei eh usciamo allora eh si exit lobby che palle i not schiaccia fai danni il server asiatico per quello ci siete? no aspetta connected ok adesso ci sono marco lei ci sono io ci sono ok ma ci sei nel senso che sei già in partita? no nel senso che ho fatto tutto bravo non si sa mai eh la 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 eh che voce da usignolo che c'ho eh si è proprio quindi pocinki doppietta e niente vittoria assicurata pocinki quanto? 5 minuti se no possiamo anche fare scuola in caso eh è vero anche la scuola mi interica facciamo la scuola facciamo la scuola eh dai andiamo a scuola amici aia dai piripiri pim pim piripiri pim piripiri pim piripiri piripipi piripipi piripiri pi guarda Gianluca che è l'uomo buzz certo io sempre per questo che il gioco ho deciso di premiarmi con degli hot pants e quanto l'hai venduto Gianlu ha? cento... cento quattordici euro è un affare per chi l'ha comprati ma si ma da scena è la verità è un figurino dai guarda ci passiamo anche sopra quindi ciao delirio proprio vai dai proprio davanti ci passiamo guarda ci saranno tutti lì è davvero sopra perfetto bene perfetto sei sicuro che dura fino alle nove sta partita? abbiamo tre minuti dai dobbiamo resistere tre minuti è un hamburger di tofu è meglio è miglio 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 guarda to no ragazzi è miglio è miglio vediamo quanta gente penso tanta io non vedo nessuno eeeh aspetta ha miglio un cereale non lo sapevo sono ignorante adesso quanta gente vedi? nessuno nessuno ai nozze non siamo nei server americani che vanno tutti qua mi sa che non è sceso proprio nessuno io ho capito una burger di tofu è meglio e credevo avessi sbagliato a scrito E' vero! E' vero! Nessuno! Ma che cacchio! Ma quando mai? No, ci sono... Eccoli! Piano piano planeranno verso qui! Dici? Vanno a pocchichi eh! Ho un car! No, pocchichi da qua, scusami! Beh, al massimo gli spacchi alla faccia, dai! Siamo fortissimi, siamo... Come mai mi scatta così tanto? Siamo a scuola! Veramente tanto mi sta scattando! Ho una zappa! Sono zappatore! Mi sento già sparare! A me, ragazzi! Ho una crossbow, li uccido io e no! Non capisco da dove, ma sì! Tranquillo! Trae adesso con il suo piano a parte! Mai visto la scuola così vuota, comunque? Mai! Doppietta abbiamo vinto! Hai fatto una doppia? No, doppietta! C'ho la doppietta! Ah! Abbiamo vinto! Io l'M4! E tu sopra di me hai notte, sì che paura! Sì che vale! Ma era nel tuo edificio hai notte? Ne lo so, ma ho sentito cose volare! Ho una police vesti a livello 3! Anch'io! Ma tanto mi sparano in testa e sono morto! Anch'io! Adesso dobbiamo andare a ammazzarci! Noi stiamo facendo le tattiche ma... Abbiamo un minuto ragazzi! Basta! Corro! All'arrembaggio! Beh, andiamo verso loro dai! Dai! Per forza! Ah, una padella! Almeno così si vince facile! Ma verso dove è loro? Eh, verso le case a est! Aspetta, devo uscire dalla parte giusta allora! Andiamo! Uscite fuori! Con le mani in alto! Crianzati! Uscite! Io ho una crossbow! Ma sei sicuro che c'era gente? Sì sì! Qua sono atterrati sì, sono sicuro! Pronto? Adesso le 21! Dai dai! Che vi dobbiamo lasciare al gatto sul tubo qua! Beh! Uscite maiali! Ti stanno sparando o spari sempre tu Marco? Sto sparando io! Eccolo! Dov'è? Lì! Guarda eh! Guarda che colpo preciso! Aspetta aspetta! Niente! Soperto! Ti sta lootando Marco? No! C'è uno qui! Eccolo lì hai notato! Troppo alto! Gli faccio il giro! Dai! Che io invece lo prendo da qua! A parte che l'ho colpito in testa comunque! E intanto qua abbiamo finito il tempo amici! Soperto! Soperto! No! Soperto! No! Allora! Che male! E niente! Dobbiamo staccare comunque! E niente! andate dal gatto noi ci vediamo domani pomeriggio domani pomeriggio esatto ciao viva pezzali non so cosa dire cose al volo scusate se ero troppo invadente alla gamesdeck ciao mi butto di sotto grazie amici grazie e buonanotte andate da gatto vaffanculo non era headshot gli ho sparato al calcagno ma va bene